Un'ultima notizia, una tesi sulla distribuzione dei gamberi rossi nei mari della Sardegna, una ricerca che è valsa ad una sarda cinzia podda neolaureata all'Università di Cagliari, il secondo posto al premio Mallorca 2017. La cerimonia di consegna dei premi si è tenuta nei giorni scorsi a Bologna nella manifestazione, nella più importante manifestazione espositiva europea interamente dedicata al mondo della subacquea. E' un'ultima notizia.